della Repubblica. Ci saranno anche diversi spostamenti adesso anche col calendario delle riaperture, quindi possibile anche caos, soprattutto laddove ci sono dei lavori come sulla A14, allora ci colleghiamo con Gabriele Masterlarini. Sì, buongiorno, siamo all'altezza del casello di Atri Pineso dell'autostrada A14, pochi chilometri più a sud c'è quello di Pescara, anche oggi ponte del 2 giugno, qui sarà una giornata da Bollino Rosso in autostrada a causa dei lavori, quattro cantieri che interessano altrettante gallerie, nei giorni scorsi code fino a 8 chilometri, automobilisti e camionisti infuriati, la FITA CNA Autotrasporti Abruzzo ha chiesto il rimborso dei pedaggi, si può fare, se ne parlerà nel corso di un vertice in programma domani con il Ministero delle Infrastrutture, Regione Abruzzo, Regione Marche e Società Concessionaria, chiamata a definire il cronoprogramma degli interventi che vanno completati tra il 30 giugno e il 10 luglio prossimo per garantire al massimo l'esodo estivo, ma oggi sarà un'altra giornata di passione sulle autostrade abruzzesi, è tutto da Pinetoli, da uno studio.